Tutte quelle parole che dal latino sono rimaste in italiano, però la cosa brutta è che tanti neanche sanno il significato, o comunque il vero significato, è una cosa veramente malinconica, devo dire, per esempio c'è una che mi piace tanto è alibi, no? Sì, sì, normalmente si utilizza nel corso di un'indagine quando qualcuno presenta un alibi, che tante volte è un alibi di ferro, che sostanzialmente testimonia il fatto che lui si trovasse, nel momento in cui è stato effettuato un delitto, da un'altra parte. E invece la parola alibi, dal latino, ha proprio questo significato, vuol dire altrove, vuol dire da un'altra parte. Non lo sapete dire? Appunto, appunto, no? Cioè, anche io, sono cose sostanzialmente che ti prendono in testa, per dire, sono estremamente affascinanti per me. È per questo che dico sempre che questa lingua ha un vero e proprio potere. Uno dei grandi poteri del latino è proprio questo. C'è una sorta di magia nelle parole, magia che fa sì che queste parole rimangano anche oggi, che abbiano molto credito, le parole latine godono di molto prestigio. E poi ci sono le espressioni, sono tante tante espressioni molto carine. Per esempio, qui devo ringraziare la mia professoressa del terzo anno, che diceva sempre, quando ha un compagno particolarmente discolo, ma tu farei compiti? Quando gli fai i compiti alle calende greche? Ci sentiamo per l'interrogazione. E questa era molto molto interessante, perché le calende greche, che di fatto non esistono, è un'espressione del calendario romano. Vuol dire proprio mai. Esatto, sì, potresti trovarti a dire a qualcuno che ci prova con te, quando ci mettiamo insieme alle calende greche. Tranquillo. Capisci, vedi, sono modi molto più, perché poi trasmettono, al di là del significato, trasmette proprio un'aura molto molto carina all'atmosfera comunicativa che hai. È qualcosa di, cioè, è assurdo, veramente incredibile. Per angusta, per augusta, rende meglio. Permettimi, dai, per permettimi di dirti che rende molto molto meglio, no? Perché ricorda Augusto, tutto, e quindi si sblocca, no? Tutto il nostro priming imperiale, ricordando la figura dell'imperatore. È molto molto figo. Altra espressione che mi colpì tanto è ad eternum vale. Lo diceva sempre il professore nostro. Sì, sì, eh. Non so neanche se sta ancora più in facoltà. Quello del recupero di latino all'università. Ogni volta che finiva la lezione, sempre, ha eternum vale. Era bellissimo, soprattutto per il fatto che non ci dava il significato completo, perché questa espressione vuol dire addio per sempre. Mi veniva in mente sempre con l'album, album, giusto? L'album, sì, comunque quello che utilizziamo, dei ricordi, che per noi, insomma, album inizialmente ha una storia, la storia di questo termine è molto lunga ed estremamente affascinante. Esatto, bianco, bianco, esatto. L'albo, no? L'albo delle cose. E sempre, no? Torniamo sempre lì, bianco a livello di foglio, no? Il foglio bianco, inteso proprio come un libro bianco in cui poter inserire qualcosa. Ecco che noi, vedi, noi abbiamo proprio traslato questo significato e da noi è passato a significare l'album in cui apporre le foto, piuttosto che degli inserti o altre cose. Molto carino, però sostanzialmente vuol dire bianco, cioè, vedi come si ingigantiscono poi i significati, no? Nella loro traduzione nel futuro. Anche pensare il fatto che le parole, le stesse parole che stiamo dicendo nel nostro dialogo, per l'appunto dialogo, esatto, cioè ci pensi mai? Le parole che noi pronunciamo, che scriviamo, hanno centinaia e centinaia di anni e di significati. Come era quell'altra, quella che diceva sempre la professoressa? Sì, non è un caso che tutte le professoresse mi abbiano trasmesso questi tesori, perché sono veramente tesauri questi, eh? Ti giuro. Il bello è che te ne rendi conto a posteriori, mai a priori. Beati monoculi in terra cecorum, beati coloro che vedono con un solo occhio nella terra dei ciechi. Nel mondo digitale vale anche, eh, devo dire, cioè si sono aperti molti, al di là del mondo digitale, che è assolutamente un luogo che di fatto nasce molto, molto prima. Ci sono sempre state, insomma, le situazioni in cui possiamo primeggiare, se gli altri non sanno, ci sono sempre state. Poche persone le hanno colte. Altre espressioni carine che posso dirti? Beh, sicuramente quelle più famose dai, carpe diem. Questa non ha neanche bisogno di andare, però quella è rimasta proprio, è una delle più famose, anche a livello cinematografico e non nei pensieri di tutti, questo devo essere molto, molto sincero. Ricordatelo perché è un termine che vale veramente tanto anche al giorno d'oggi. Vi ricorda a storia? A storia, sì, quante volte senti anche tu il casus belli, no? Casus belli è il motivo della battaglia, inteso come proprio oggetto scatenante di quel determinato conflitto. Il casus belli, invece di dire il motivo che mi ha fatto fa la guerra, casus belli, effettivamente. Perché poi è un fattore molto di eleganza, no? È una cosa che, esatto, corrisponde molto con... è come avere una ragazza ghindata e ben vestita, come per esempio Cenerentola, la sera del ballo, per quanto se ne voglia di, voglio dire, è come paragonare Cenerentola alla gattara dei Simpson. Eleganza. Sì, che non ci sia termine più appropriato. Eleganza che si sta perdendo oggi. Oh, a proposito di leggi, me ne è venuta in mente un'altra, che si dice, forse più in situazioni di addetti ai lavori, ma si dice, castiga ridendo mores. Ridendo corregge le abitudini. È interessante, quando abbiamo un leader, molto carismatico anche, che riesce a correggere le fluttuazioni che non vuole vi siano nel suo contesto, ma in maniera molto morbida. È molto, molto interessante. E a volte può far la differenza. E nei contesti aziendali più piccoli e nei contesti, per esempio, in cui nacque questo termine di governo vero e proprio. È molto, molto interessante. Questa è bellissima, questa è bella. Quando finisce un tutto, consumadumest, tutto è finito, tutto è consumato. Ho consumato a livello di ho carpito tutta la sostanza da quel qualcosa e adesso è quasi polverizzato. Loro lo intendevano in questo senso. A me spiace dirlo, ma in italiano non veramente molta magia di queste cose si è persa. Come dico sempre, le parole parlano e ci parlano di cose molto, molto belle. Il problema è che noi siamo così abituati ad utilizzare termini, a non assaporare quel gusto verbale che a volte perdiamo tutta la meraviglia che si nasconde dietro una pagina ben scritta o un discorso ben pronunciato. Coram populo, coram populo si dice quando si fa qualcosa sotto gli occhi di tutti. Credo qui absurdum. Quest'altro anche è bello, molto molto carino. È una cosa un po' più spirituale, però anche qui il significato è carino. Credo qui absurdum. Brava, esatto, esatto, già l'hai capito, no? Credo poiché è assurdo. Ci credo ciecamente, anche se è assurdo. Queste sono cose un po' più, no? Ricordano un po' i martiri, un po' a livello di San Tommaso, no? Anche se lì siamo in contesto proprio diverso. Però il campo semantico è quello. Quando tu credi in una maniera incredibile a qualcosa, quasi presti un atto di fede, no? Fai un leap of faith. Fai un salto della fede in quel qualcosa. Ci credi? Anche se è assurdo. A volte proprio perché è assurdo. Ecco, quando vuoi magari giustificare ai tuoi genitori o ai tuoi amici o... Anche semplicemente a te stesso un qualcosa, ecco, puoi dirti questa frase. Credo qui absurdum. De gustibus non disputandum est. Questa, vabbè, quella... Soprattutto nei banchi di scuola, questa si sa, la sanno tutti ormai, eh? Sui gusti non c'è da discutere. I gusti... Molte volte è brutto il fatto... È malinconico il fatto che molte persone dicano solo de gustibus, no? Sempre, no? Le storpiature. O il fatto semplicemente che si scordano le espressioni semplici, no? Diciamolo tutto. De gustibus non disputandum est. Ma per quanto sia un'espressione... Due volte anche il significato non è ben inteso. È vero, non nasconde un fondo di verità. E oggi si dice tanto, tanto, tanto. Questo perché? Perché siamo in un'epoca molto liberale, molto impersonale, molto flessibile. A livello di gusti personali. Ecco, una cosa molto interessante che devi ricordare è che le parole che dici, così come le espressioni che utilizzi di più, ti sono state insegnate. O comunque tu hai avuto modo di assorbirle in maniera così capillare. Perché? Perché la società in cui viviamo, la cultura in cui viviamo, ha supportato l'utilizzo non di quelle espressioni. Un'espressione di fatto non esiste. È un'idea, un'idealità che viene compressa sotto forma di suoni che per noi rappresentano un significato che ci consentono di comunicare, mettere insieme, no? I significati, i nostri punti di vista. Ecco. Tutti i significati che hai e che esprimi sotto forma di parole provengono dalla società. Quando per esempio vediamo Netflix, leggiamo un libro o semplicemente vediamo il telegiornale, noi ogni cosa che assorbiamo in qualche modo ci forgia anche a livello di pensieri. I pensieri come si trasmettono? Con le parole. Ecco, tutto questo per dirti che forse dovremmo riscoprire i termini latini. Ecco, tutto questo per dirti che per me questa lingua è molto potente soprattutto per questo. E forse ce la insegnano a scuola proprio per questo, per fare una sorta di pulizia mentale. se non totale, comunque parziale, per creare uno spazio in cui mettere dentro le cose che vogliamo. È un discorso molto complesso, su questo penso ci torneremo, ma veramente il latino ci dà un significato. Il latino ci dà potere. Non c'è niente da fare. Ne scopriremo altre di parole e di espressioni. Dimmi se ti piacciono. Ti piacciono. Lo so, lo so, lo so benissimo. Ed è bene che ti piacciono, perché anche quando trovi sul vocabolario varie terminologie, oppure trovi un'espressione particolare sul vocabolario, ecco, conoscere più termini e più espressioni possibili rientra in quello che, no? Lo dicevamo nei video precedenti, rientra nel cosiddetto vocabulari power. È quello che ti consente di aprire molto meno il vocabolario e di tradurre in poco, poco, poco tempo. Lasciandoti tutto il tempo di fare quello che vuoi. Extra compiti. Suona bene, eh? E allora, continui a seguire i nostri video, segui una consulenza con le nostre ripetizioni spartane. Facci sapere, e tranquillo, step by step, raggiungeremo il non plus ultra. Te l'abbiamo promesso. E manterremo la promessa. Ci vediamo la prossima volta. Grazie. 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 Grazie.